È arrivata all'ospedale Santa Maria dell'Olmo di Cava dei Tirreni venerdì intorno alle 23 la piccola Ludovica Lodato di 5 anni, deceduta sabato sera all'ospedale Ruggi di Salerno dopo un disperato tentativo di salvarle la vita con un intervento chirurgico. La piccola, che soffriva di una rara malformazione al cervello che ne impediva la mobilità, quando è arrivata all'ospedale di Cava dei Tirreni aveva tutti i sintomi che facevano pensare ad una enterite. Ma il giorno dopo il suo arrivo, intorno alle 13.45, secondo quanto riferito dai parenti della piccola, la madre ha notato che la pancia di Ludovica si stava gonfiando a dismisura. A quel punto la donna ha chiamato immediatamente gli infermieri che le avrebbero detto che non c'era da preoccuparsi e che era comunque necessario attendere l'arrivo del medico di turno. La madre della piccola Ludovica ha raccontato che il medico sarebbe arrivato intorno alle 15.30, ha praticato alla bimba un clistere e le ha inserito un sondino nasogastrico continuando con indagini e radiografie. Intanto l'addome della piccola era incredibilmente gonfio e teso. A quel punto era chiaro che non si trattava di una enterite, ma di un blocco o una perforazione intestinale. All'arrivo del chirurgo è stato chiamato il rianimatore ed è stato disposto il trasferimento della piccola Ludovica all'ospedale Ruggi di Salerno, dove è giunta dopo le 18.00. Ma le sue condizioni erano già disperate, non arrivava più sangue agli organi interni e ogni tentativo di salvare la vita con un intervento chirurgico è stato vano. I genitori della piccola hanno denunciato la caduta alle autorità competenti. Sarà l'autopsia a chiarire le reali cause della morte di Ludovica.